Ciao a tutte ragazze, buongiorno, buona giornata perché la mattina è passata già da un pezzo io sto facendo incredibilmente sport con mia mamma, un evento rarissimo vi volevo ringraziare perché sul sito abbiamo visto che siete entrate in tantissime e in tantissime avete acquistato io non so come ringraziarvi, ma è una soddisfazione grandissima a parte questo, niente ragazzi, vi auguro una meravigliosa giornata io intanto vi ricordo che i pezzi sono limitati, che il 23 marzo uscirà un altro pezzettino della nostra collezione e che vi aspetto sul sito dai brava brava dai 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 dovete vedere tutti mia mamma che vergogna si è sdraiata in una pausa sta fumando una sigaretta c'è andrea di qualcosa cioè mamma ma che educazione è per le ragazze che vede che esempio dai buongiorno gianni come va che sorriso che banta come vada di bene questo quando si entra qui da guardia solo grandi sorrisoni vero anto che sorrisi ma come matilde matilde basta però ci sia mangiata e basta azia dai che vuoi la meletta ma non è che ci vada qualcosa per matilde che c'ha fame non è che ci vada un pezzettino che matilde c'ha fame amore ecco aspetta per matilde amore adesso arriva amore aspetta non è chi può fare proprio il crostino eccolo sia guarda aspetta una stagiazione vedete se è buono no è buono vai bello c'è fame visto nonna grazie per matilde che grazie no matilde dai amore di zia basta sushi solo se lo mangia pure zia però va bene dai lo mangia anche zia grazie gente noi andiamo allora abbiamo mangiato ciao ragazzi vi volevo informare che ti aspettiamo sullo shop online io e Gbiccio sono emozionatissima scusatemi e niente ciao 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 mamie ciao ciao Ricci Ricci ciao ragazzi io e Lario vi volevamo dire che quei video che vedete sul profilo di mia sorella naturalmente sono video finti cioè noi stavamo facendo le cretine non è che ci metteva a fare i video così a fare cioè stavamo imitando proprio chi fa queste cose ecco non siamo rifatti video no quindi dopo che mia sorella si è mangiato i ragazzi cinesi e giapponesi i piatti le nostre bacchette le bottiglie d'acqua si è accomodata e niente le matilde sono sazie il video che ho pubblicato poco fa purtroppo non posso farlo sentire perché mia sorella è volgare ricattatrice e cicciona cicciona no stavamo riflettendo adesso del video precedente avete visto che bello per te stasera l'aria vino l'aria vino ilaria è incinta no ma lei dice solo il faccio non è incinta è una sorella che è una vacca incinta